Reduce dall'esperienza al «Grande fratello VIP», Davide Donadei ha rilasciato un'intervista a «Super Guidativi», in cui parla della sua esperienza, dei suoi coinquilini e delle polemiche scaturitesi fuori dal reality. Durante la sua permanenza nella casa, esattamente lo scorso 24 febbraio, lo storico giornalista e conduttore Maurizio Costanzo è venuto a mancare, causando una tristezza generale nel mondo dello spettacolo. Ai vipponi non è mai stata comunicata questa notizia, come successe gli scorsi anni per altri personaggi famosi scomparsi. Ebbene, Donadei ha confessato di non aver gradito molto questa decisione. Come è noto, il ristoratore ha partecipato ad una delle trasmissioni più conosciute di Maria De Filippi, «Uomini e donne», la cui redazione per lui è una vera e propria famiglia. Per questo, gli sarebbe piaciuto essere informato dell'accaduto. La redazione di «Uomini e donne» è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato «Perché non hanno detto nulla?». In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto. Per Donadei. Il GF VIP era un vero e proprio obiettivo. Che rincorreva da tanto tempo. L'ex tronista, infatti, si era già proposto per la scorsa edizione ed ha aspettato più di un anno impazientemente per poter entrare nella casa più spiata d'Italia. Nonostante le difficoltà della convivenza, tra disordine e turni dei bagni, per Davide è stata un'esperienza unica e ha confessato che sarebbe pronto ad affrontare anche un'altro reality. Ancora più duro. Ovvero, l'isola dei famosi. Per quanto riguarda gli altri concorrenti. Il ristoratore non ha avuto dubbi. Oriana Marzoli è la più stratega. Anche se se la gioca con Edoardo Tavassi. La più grande delusione è stata Alberto De Pisis. Mentre Daniele Dal Moro è stata la più bella scoperta. Anche se la gioca con Edoardo Tavassi.